Un bimbo malato di parotipo, il suo cane prediletto, che a sua volta ha trasmesso gli orecchioni ai suoi cuccioli, ciò che costituisce un caso strano negli annali della medicina e un'umoristica visione per la macchina da presa. L'epidemia si è naturalmente diffusa a tutta la famiglia, che è ora in quarantena sotto sorveglianza medica. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS